certo cioè capisci c'è noi che facciamo che riprendiamo i paparazzi sì e che sento anche il tuo posto perché è troppo divertente questo è il dietro le quinte delle quinte delle paparazzate dei fotografi capito ecco se capisce niente ragazzi che bello averti qua finalmente che sono riuscita a beccarti era un raggio di sole sei grazie ecco di qua grazie veramente voglio divertiti più però sì 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 e sì promesso è promesso